Eccoci qui, al voto, al voto o al vuoto, al vuoto. Per la prima volta nella storia repubblicana una legislatura finirà senza neppure essere cominciata oppure si riuscirà a far partire un governo di garanzia, di servizio neutrale, come l'ha definito oggi il presidente Mattarella. Sono queste le domande che lascia in sospeso la giornata decisiva delle consultazioni e che gireremo i nostri ospiti, che sono questa sera Giuseppe Tognon, presidente della Fondazione De Gasperi. Benvenuto. Grazie. E poi collegata dalla Quirinale, dove ha seguito l'intensa giornata di oggi, se me la fanno anche vedere in studio ringrazio la regia, Barbara Tedaldi, che è Quirinalista dell'Agi. Buonasera Barbara. Non c'è ancora Barbara Tedaldi, intanto vediamo le aperture dei telegiornali della sera e dopo comincia TGTG. La sigla. Nessuna intesa, l'ultimo giro di consultazioni non sblocca lo stallo e il rischio di tornare subito al voto sembra dietro l'angolo. Di Maio e Salvini ipotizzano anche una data, l'8 luglio. Tattica, provocazione, pressing, la mossa di Mattarella. Nessuna intesa tra i partiti, via libera quindi ad un governo neutrale fino a dicembre, poi alle urne e così poco fa il presidente della Repubblica, Mattarella, al termine dell'ultimo giro di consultazioni. Serve un nuovo esecutivo che guidi l'Italia, ma non si può votare senza una nuova legge elettorale. Invito alle forze politiche alla responsabilità. L'ultimo giro di consultazioni si conclude con un nulla di fatto, niente accordo 5 Stelle e Lega, Salvini in carico al centrodestra, il PD pieno supporto a Mattarella. Chiuse le consultazioni, il capo dello Stato prende atto dell'impossibilità di trovare una maggioranza politica e chiede ai partiti di votare la fiducia ad un governo neutrale che duri fino a dicembre e poi le elezioni. L'alternativa, dice Mattarella, è tornare alle urne subito o in autunno, con tutti i rischi che questo comporta per le scadenze economiche. Decidano i partiti aperte con responsabilità. Mattarella, governo di servizio fino a dicembre per la manovra oppure voto in estate e autunno con rischi per il paese. I partiti decidano. Incontri, telefonate, poi per la terza volta le consultazioni al Colle. La lunga giornata della politica si conclude con le parole al presidente Mattarella che auspica un governo con piene funzioni per le imminenti scadenze interne e internazionali. I partiti chiedono tempo, ha spiegato il capo dello Stato, ma nel frattempo si può mettere in campo un governo neutrale per andare a votare poi a dicembre o in autunno. Serve responsabilità. Mattarella, le forze politiche senza intese o governo di servizio fino a dicembre o elezioni? Voto difficile in estate o rischiosi in autunno o per live le speculazioni sui mercati? Eccoci qui, dovremmo avere adesso collegata dal Quirinale Barbara Tedaldi che ha vissuto questa intensa giornata proprio al Quirinale. Buonasera Barbara. Ti chiedo subito, abbiamo visto i titoli dei telegiornali della sera, qual è il tuo titolo? Cosa ti ha colpito di più dell'intensa giornata oggi lì al Quirinale? Più che delle parole e delle espressioni mi ha colpito il viso molto preoccupato del capo dello Stato che si sta giocando l'ultima possibilità, ha proposto ai partiti un ultimo appello, un po' tirata d'orecchie, un po' possibilità. Ha fatto una proposta alla quale in teoria dovrebbe essere difficile dire di no e che invece ha già raccolto più no che sì, anzi un solo sì, quello del PD. La proposta del capo dello Stato, l'avete già detto sia nel vostro telegiornale che nei titoli degli altri telegiornali, è un governo neutro. Quindi un governo molto soft, molto evanescente, nel quale addirittura già si dice potrebbe durare anche non oltre dicembre, quindi sei mesi circa, e i cui componenti sono chiamati a non candidarsi alle prossime elezioni, quindi proprio persone che annunciano già di voler svanire appena finito il loro compito. Questo tempo, fino a dicembre, nell'auspicio del capo dello Stato, poteva essere usato per ritrovare una concordia o perlomeno abbassare il tasso di litigiosità tra i partiti in modo da varare almeno la manovra finanziaria, senza la quale già sappiamo che rischia dal primo gennaio 2019 di aumentare l'IVA. Aumento dell'IVA, dobbiamo ricordarlo, vuol dire aumento del costo di tutti i prodotti, anche il latte, il pane, la carne, calo dei consumi, rischio di calo del lavoro. Senz'altro, hai riassunto i termini della giornata di oggi e il professore Barbara Tedaldi ci riferiva di questa preoccupazione che traspariva dal volto di Mattarella. Qual è invece la sua lettura? La mia lettura è che Mattarella questa sera ha fatto una cosa molto importante, molto nuova e anche rischiosa. È come se avesse passato il fiume e si sia rivolto direttamente ai cittadini italiani, dando tempo ai partiti di continuare la loro trama, ma sostanzialmente richiamando tutti alla necessità che il voto sia rispettato, non nella composizione politica, ma proprio come voto, perché sarebbe la prima volta che un voto non serve a nulla. Da questo punto di vista lui è garante del fatto che gli italiani hanno votato, si rivolge a loro, fa una proposta che ha spiegato anche nei minimi dettagli e in sostanza mette in mora i partiti, o meglio i loro leader, di fronte all'opinione pubblica. La partita si sposta adesso in Parlamento. Ecco, adesso andremo a vedere come si giocherà questa partita, in quali tempi, anche con quali volti, e quante chance avrà poi questo governo di garanzia neutrale effettivamente di ricevere una fiducia in Parlamento. Prima però vediamo gli altri titoli del giorno, poi torniamo in studio. Qui siamo padroni noi. Sono entrati così in un bar alla periferia di Roma. Volevano essere serviti per primi e hanno devastato il locale. Protagonisti, due membri del clan dei Casa Monica, Calcipugna, baristi e clienti. Presa a cinghiate anche una donna disabile che aveva osato ribellarsi. Ancora violenza sui treni. Un poliziotto fuori servizio è stato preso a calci e pugni su un regionale alle porte di Milano. La gente era intervenuto per difendere un capotreno minacciato da un gruppo di nigeriani senza biglietto, ricoverato in ospedale. La crescita continua, ma rallenta, dice l'Istat. Infrenata anche industria ed esportazioni. Ilva, via libera condizionato di Bruxelles, alla vendita ad Arcelor Mittal. Il giuramento di Putin, quarta volta da presidente al comando per altri sei anni, la sua promessa a fare più grande la Russia. Ma è subito un coro di no, i 5 Stelle con Di Maio. Nessuna fiducia ad un governo neutrale, si voti a luglio. La Lega, non esistono governi tecnici. Rispettare il voto degli italiani subito alle urne, anche d'estate. Forza Italia, ci consulteremo con alleati, ma meglio voto in autunno. No anche da Fratelli d'Italia. Per ora unico sia la strada indicata da Mattarella dal Partito Democratico. Professore, questi titoli un po' illustrano forse anche l'urgenza per l'Italia di avere un governo. I problemi ci sono, interni e internazionali. Mattarella ha espresso delle preoccupazioni in tal senso, anche Barbara ne parlava prima. Le sue parole come pensa che possano essere ricevute in questo Parlamento uscito dalle urne del 4 marzo? Già abbiamo sentito arrivare dei no. Sì, i no fanno parte anche della tattica. Il governo dovrà essere presentato, la settimana prossima si presenterà in Parlamento. E lì i deputati sono come i cittadini. E il passaggio delicato, una piccola scommessa, è anche di pensare che i deputati non sono i leader che hanno dimostrato di non essere capaci in 64 giorni di trovare una soluzione. Quindi Mattarella giustamente ha messo alla prova a questo punto un'altra istituzione, il Parlamento. Per vedere se c'è il margine per far approvare questo governo di garanzia. Dopodiché, ovviamente, la responsabilità ritorna ai cittadini. Adesso vorrei chiedere a Barbara Tedaldi se ci sono già qualche notizia, qualche indiscrizione circa quando potrebbe essere incaricato questo premier di servizio, se dalla sua punto d'osservazione quante chance ha di ottenere consenso in Parlamento. E poi, una domanda mia così, anche solo per garbo istituzionale, prima di precipitarsi a dire di no, forse non si poteva sentire chi fosse questo incaricato, magari sentire anche il suo discorso in Parlamento o sono un inguaribile romantico? No, un inguaribile conoscitore della Costituzione più che altro. Sì, sarebbe stato più carino, per usare un eufemismo, aspettare. Sarebbe stato meglio aspettare di sapere quantomeno chi sarà il premier incaricato dal Presidente della Repubblica. L'incarico dovrebbe arrivare tra domani e mercoledì al massimo, molto probabilmente. Poi il giuramento ce lo aspettiamo per il fine settimana e appunto all'inizio della prossima settimana questo premier si presenterà con la sua squadra di ministri in Parlamento per chiedere la fiducia. Ci proverà, come ci ha provato il Presidente della Repubblica. È vero che appunto non esiste il vincolo di mandato, quindi sulla carta i parlamentari potrebbero decidere di votare la fiducia anche a dispetto delle indicazioni dei loro leader. Il fatto però che ci siano sicuramente, insomma, che si hanno alle viste delle elezioni così immediate fa sì che questi parlamentari siano un po', diciamo, sotto ricatto, ricandidatura. Cioè, da una parte ci sia il loro libero esercizio di volontà e dall'altra ci sia però la possibilità e il rischio di non essere ricandidati. Vedremo le possibilità che questo governo parta, sono veramente poche, sono abbastanza ridotte al lumicino perché finora il sì esplicito c'è stato solo dal PD che ha però poche decine di voti in Parlamento, di seggi. Siamo in una situazione inedita. Vorrei farvi vedere un po' di un cartello nel quale abbiamo provato a individuare la formula di questo governo prendendo spunto da quello che scrivevano i giornali e poi dal discorso di Mattarella. Ecco, questo che governo è o sarà? Governo elettorale di tregua del presidente istituzionale di scopo di minoranza oppure neutrale di servizio di garanzia? Ecco, questi sono i termini venuti fuori dal Quirinale. A proposito di servizio, professore mi viene da chiederle il servizio che sta rendendo anche Mattarella esponendosi al rischio che la sua proposta venga bocciata in Parlamento. Questa è un'osservazione molto importante. Tutti i commentatori hanno sempre detto che un presidente della Repubblica non può essere sfiduciato dal Parlamento nel momento in cui presenta un governo. Ma Mattarella è andato oltre. Nel modo con il quale ha gestito questa crisi, ha mostrato di avere una grande sicurezza interiore, di applicare la Costituzione anche al di là delle forme. E quindi corre insieme ai cittadini il rischio di un no e di una sberla da parte di leader politici che non sono stati capaci di seguire quello che lui chiedeva dovessero doverosamente fare. Quindi da questo punto di vista un presidente della Repubblica che non riuscisse a far partire questo difficilissimo governo di garanzia sarebbe più vicino ancora alle sorti del Paese e avrebbe titolo nei mesi prossimi per richiamare in maniera allora sì più forte tutte le forze politiche a compiere un passo di responsabilità. Mattarella ne esce molto bene, rischia con noi, rischia con l'Italia, consapevole del rischio che corre e quindi sostanzialmente vuole che tutti i protagonisti siano messi nella condizione di dover rispondere anche nella prossima campagna elettorale. Ecco, a proposito della campagna elettorale, vogliamo far sentire un frammento del discorso del presidente Mattarella solo pochi secondi nei quali però il presidente fa riferimento alla campagna elettorale. Sentiamolo e poi torniamo in studio. Sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica che una legislatura si conclude senza neppure essere avviata la prima volta che il voto popolare non viene utilizzato e non produce alcun effetto scelgano i partiti con il loro libero comportamento nella sede propria, il Parlamento tra queste soluzioni alternative, dare pienezza di funzioni a un governo che stia in carica finché fra di loro non si raggiunga un'intesa per una maggioranza politica e comunque non oltre la fine dell'anno oppure nuove elezioni subito nel mese di luglio, ovvero in autunno. Ecco Barbara, il presidente Mattarella oggi ha detto forse è stato così difficile trovare un accordo perché venivamo, eravamo reduci da una campagna aspra e polemica, come dire sembra leggersi in filigrana una nota di rimprovero da parte del capo dello Stato nei confronti dei partiti in questo inciso? Sì, anche perché dovremmo ricordare che nel discorso di auguri alle alte cariche a Natale il capo dello Stato aveva chiesto ai partiti, prima di sciogliere le camere, di fare una campagna elettorale con proposte credibili e praticabili per davvero, mentre insomma abbiamo visto qualche proposta un po' esagerata, per usare sempre delle parole molto calibrate. Adesso la sua preoccupazione è un'altra, cioè che veniamo da una campagna elettorale talmente forte nei toni da non aver permesso poi di fatto all'indomani del voto di raggiungere un'intesa tra le forze politiche. Ricominciamo, oggi Di Maio ha detto da oggi siamo in campagna elettorale, ricominciamo un'altra campagna elettorale con toni che già si annunciano nuovamente forti, votando con la stessa legge elettorale, quindi con di nuovo un rischio di stallo dopo il nuovo voto e a quel punto di nuovo ci troveremo con partiti l'un contro l'altro armati, con il rischio che nessuno abbia la maggioranza e di nuovo con tre giri di consultazioni, la ricerca di intese impossibili. Il timore di Mattarella è appunto questo, che nemmeno il voto possa risolvere la situazione e che quindi ci ritroviamo tra tre mesi nelle stesse condizioni in cui ci siamo trovati negli ultimi due mesi. Uno stallo si può avere, il Paese l'ha sopportato, i mercati finanziari non hanno infierito, due stalli rischia di essere un po' troppo. Professore, il tema della legge elettorale non può essere eluso? No, non può essere eluso. Nella frase che Mattarella ha detto, scelgano i partiti, c'è anche un riferimento molto esplicito al fatto che i partiti concorrono alla vita politica, ma sono gli elettori che scelgono. È come se avesse detto, io vi ho rappresentato tutto, vi ho spiegato per filo e per segno quello che si potrebbe fare. Scelgano gli elettori. In sostanza, Mattarella mette i partiti di fronte anche al problema. Se convenga davvero a tutti andare alla legge elettorale, soprattutto con questa legge. È vero che con questa legge hanno calcolato che basterebbe lo spostamento di un 4% di voti per poter far arrivare alla maggioranza o i 5 Stelle o il centrodestra. Però è anche vero che le elezioni arriverebbero dopo questa dramma e soprattutto in un momento di grande, sottile timore. Se il governo non parte, la legge elettorale non si può cambiare. Diventa difficilissimo che un governo di missionario, anche se la proposta possa venire dal Parlamento, riesca a condurre in porto un cambiamento della legge elettorale. E poi, da chi proclama l'importanza di rispettare il voto popolare, mi chiedo, se si andasse subito a votare, questa sarebbe la prima legislatura, come abbiamo sentito ricordare dal Presidente Mattarella, in cui il voto popolare non produce nessun effetto, viene completamente sterilizzato, riutilizzato. Sarebbe la prima volta per la storia repubblicana. In realtà, chiedere ai cittadini di votare due volte è come dire, ci avete pensato bene. Allora il problema non è tanto riportare il corpo elettorale al voto, è vedere se la prima campagna non diventi praticamente la seconda campagna. Se in mezzo è intervenuto qualcosa che fa riflettere i nostri cittadini. Se questa crisi servisse per far riflettere, anche confermando le tendenze, avrebbe comunque un significato. Il rischio è che i leader politici sconfessati dalla crisi, che non hanno saputo gestire, buttino come si dice in caos la campagna elettorale. E questo è quello che preoccupa tutti noi. Barbara, un'ultima domanda. Tu sei più vicina di noi, sei stata più vicina di noi tutta la giornata al Quirinale, alla stampa, al cedo politico. L'impressione tua quando andremo a votare? Dobbiamo prepararci presto per l'estate o più in là? Io credo che sia più ipotizzabile l'autunno. Berlusconi e Forza Italia hanno già fatto una nota nella quale dicono che per Forza Italia sarebbe meglio votare in autunno. Il 22 luglio, perché stiamo parlando del 22 luglio, non dell'8 luglio di cui hanno parlato Di Maio e Salvini, perché mancherebbero i tempi tecnici, non si potrebbe votare prima del 22 luglio. Tutto può essere, abbiamo visto accadere qualunque cosa nella politica italiana. Mi suona un po' strano e ci sarebbe tra l'altro un rischio di poca partecipazione al voto, perché il 22 luglio insomma un po' di italiani che se lo possono permettere sono in vacanza o perlomeno qualche giorno di riposo anche magari lontano dalla città. Quindi ci sarebbe anche questo rischio di una scarsa affluenza al voto in un periodo in cui c'è disaffezione nei confronti della politica. Giocarsi così qualche, insomma, un po' di milioni di voti, credo che non convenga a nessuno e che sarebbe un problema, insomma non voglio dire democratico, però sicuramente di partecipazione. Quindi io vedo più probabile il voto in autunno, però ripeto, ormai siamo abituati alle sorprese giorno per giorno. Grazie davvero a Barbara Tedaldi per essere stata con noi questa sera. Grazie a voi. Professore, in una battuta, a proposito di sorprese, potremmo aspettarci una sorpresa che questo governo incredibilmente parta? Io penso di sì e comunque potremmo avere la sorpresa di un governo guidato per la prima volta da una donna. Potremmo avere la sorpresa di un grande discorso di un primo ministro incaricato che viene battuto, ma che sostanzialmente sviluppa nel Parlamento le idee di Mattarella. In sostanza un effetto rafforzativo che dia fiducia agli italiani, anche se saranno chiamati a un'altra campagna elettorale, anche se saranno chiamati al voto presto. Grazie anche a Giuseppe Tognon per essere stato con noi questa sera. Grazie. Grazie a voi che ci avete seguito da casa. Il nostro Dulcisinfundo questa sera è per Raimondo Vianello, che nasceva il 7 maggio del 1922. Vi riproponiamo un frammento, una scenetta di quelle tanto gustose tratte da un film episodico, naturalmente l'inseparabile Sandra. Poi restate su TV2000, il nostro omaggio a Ermanno Olmi, scomparso oggi. Vi riproporremo il film E venne un uomo, su Giovanni XXIII. Grazie per essere stati con noi e se volete ci vediamo domani. Ciao. Ma come diavolo avete fatto a trovarci? Ah, è stato facilissimo. Io da bambino ero nei Boy Scout, sono l'ottimo cercatore di piste. Allora che cosa facciamo? Venite con noi a Santa Marinella? No, no, andate voi, noi restiamo qui. Tra l'altro non mi sento nemmeno bene. Ma che cos'hai, se prima hai detto che stavi benissimo. Sì, lo so, ma adesso ho dei brividi, non so, qualcosa sullo stomaco. Si vede che è agitato, sa? Sì, sì, ma dopo passa. Appena ve ne siete andati mi metto subito a letto. E mi dico, non è mica prudente stando male a star qui soli in mezzo a questo deserto. Beh, ma perché soli? Potreste rimanere qui con noi? Ma dove? Nella roulotte? Ma no, è impossibile. Perché è impossibile? Venite a vedere. L'auto fiocioletta può ospitare comodamente sei persone. Noi siamo in cinque, perciò si potrebbe chiamarne un altro.